L'obiettivo della terapia rigenerativa, in questo caso intradiscale, è quello di riparare il tessuto discale danneggiato e rigenerare quanto più possibile il disco intervertebrale, andando a riformare la quota anche del nucleo polposo del disco, in modo da rendere il disco di nuovo morbido come da giovani. Il tutto si esplica attraverso dei meccanismi che mettono in opera queste cellule mesenchimali una volta immesse nel disco intervertebrale, un meccanismo di viscosupplementazione e un meccanismo effettivo di rigenerazione mediante la secrezione di fattori di crescita e di citochine. Le citochine hanno un valore importantissimo per quanto riguarda l'antinfiammazione, cioè vanno a creare un elemento assolutamente idoneo per la rigenerazione di queste cellule mesenchimali. Inoltre aiutano il paziente a non avere dolore già da subito dopo la somministrazione di queste cellule mesenchimali nel disco intervertebrale, quindi migliorando il dolore e quindi la funzionalità della unità discosomatica. Come dicevo, gli effetti si esplicano nel tempo e la rigenerazione del disco intervertebrale arriva nell'arco di qualche settimana o qualche mese, considerando che noi faremo il primo controllo mediante risonanza magnetica a quattro mesi dall'impianto di cellule staminali. Ovviamente, una volta rigenerato il disco intervertebrale, questo disco seguirà la vita normale di tutti gli altri dischi intervertebrali accompagnando il paziente nella sua normale e fisiologica vita di invecchiamento.